Il nostro direttore Roberto D'Antonio che è in collegamento con il vice direttore del quotidiano nazionale Angelo Raffaele Marmo proprio per analizzare le immediate conseguenze scatenate dalla crisi bellica che andremo a registrare sotto il profilo economico. Grazie Beatrice e grazie Raffaele a te per esserti collegato con noi. Insomma abbiamo visto la situazione è quantomai complessa e da un punto di vista economico cosa sta accadendo e cosa accadrà? Mi pare che siccome stavamo già in una situazione abbastanza complicata dal punto di vista del caro energia e quindi di tutto quello che ne deriva in termini di impatto sui prezzi, la fiammata inflattiva eccetera eccetera, questa vicenda e quindi la guerra in corso perché di quello si tratta nel cuore dell'Europa rappresenta come dire da questo punto di vista il booster cioè nel senso l'amplificatore, il moltiplicatore di quello che era già in atto per effetto della pandemia. Quindi dopo la pandemia la guerra è una combinazione terrificante dal punto di vista di quello che può accadere sul versante economico. Del resto già stamattina abbiamo visto le borse che sono crollate, stanno volando petrolio, prezzi del gas e quant'altro. Sì Raffaele tu appunto hai parlato di questa tempesta perfetta, questo passaggio dal periodo pandemico al conflitto bellico, noi eravamo tutti quanti proiettati verso la ripresa, verso la transizione ambientale, ecco tutto ciò avrà adesso delle ripercussioni? Sicuramente si tratta di capire se è vero quello che ha detto qualche esponente importante del governo tedesco stamattina laddove ha detto ci siamo svegliati in un mondo nuovo oppure se quello che sta accadendo è una cosa che si può chiudere in un modo o nell'altro nel giro di qualche mese insomma perché dipende tutto dal tempo, dalla durata di questa nuova crisi. Questo dipende molto dalle mosse di Putin più che dall'Occidente insomma perché se effettivamente si ferma nella escalation che ha determinato a un certo punto da lì si può realizzare una forma di distensione e quindi le cose tornano a una certa normalità. Se questo non dovesse accadere allora ci troveremo di fronte a uno scenario terribilmente molto più inquietante, drammatico e terribile e a quel punto qualsiasi previsione rischia di essere fatta sulla sulla sabbia insomma. Le sanzioni molto dure che l'Unione Europea ha anticipato che ad ore convenerà appunto alla Russia. Ecco secondo te sono uno strumento efficace per bloccare l'azione di Putin? Ecco sanzioni contro armi è uno scenario possibile? Le sanzioni storicamente sono sempre state un'arma non solo largamente inefficace ma anche a volte un vero e proprio boomerang. Quindi io onestamente sono molto scettico personalmente sulle sanzioni. Uno perché quelle annunciate sono assolutamente light, servono a ben poco. Quelle che dovranno arrivare queste super sanzioni hard non so di che natura possano essere però sicuramente è un discorso asimmetrico perché da un lato c'è un'invasione militare dall'altra parte c'è una reazione economica che è abbastanza che può rivelarsi anche inefficace. Probabilmente Putin ha messo in conto questo tipo di sanzioni o un certo livello di sanzioni a cui pensa di poter resistere insomma.